Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi video in collaborazione con Pocket Sport. Vi parlo di questo brand in quanto secondo me ha degli articoli veramente interessanti. È un brand che vende abbigliamento sportivo, ma non è il classico abbigliamento sportivo. Loro sono anche su Instagram, su Facebook, sono straseguiti, li trovate con questi nickname. Loro ci tengono a specificare che il loro abbigliamento è per chiunque ami il movimento, quindi non per forza vi dovete allenare, dovete competere, fare gare. Chiunque ami il movimento può benissimo indossare i loro capi. È un marchio che esiste da già ben tre anni, mi pare, è ben consolidato e ha delle recensioni veramente ottime e i prodotti sono di altissima qualità. Vi voglio fare una piccola rubrichetta dei miei prodotti loro preferiti. Infatti adesso vi metterò qui le foto e vi spiegherò mano a mano perché mi piacciono e un pochino più di dettagli. Iniziamo con il prodotto top numero uno, secondo me, che sono i Cloud Leggings. Ci sono in diversi colori, ma io ho selezionato anche il colore che più piace a me praticamente. Marine, marino, insomma è un blu che secondo me è bellissimo. È questo qui. E sono leggings che potete utilizzare sia per movimenti ad alto impatto, sia a basso impatto. Quindi ad esempio camminate tranquille o allenamenti di corsa intensivi. Potremmo farci meditazione, yoga o quello che vi pare a voi potete indossarli anche per andare, non lo so, al cinema o al ristorante. Questo è il bello dei loro capi. Queste foto perché secondo me rendono bene l'idea proprio del prodotto indossato, proprio delle varie modalità o dei vari outfit, un po' per ispirarsi così. Il secondo prodotto che secondo me è veramente figo è il reggiseno. Ogni legging ha il proprio reggiseno correlato, però io vi voglio mostrare un po' cose sparse. Questo qui è il bra plein air e secondo me è veramente veramente figo. I colori mi pare due, rosso e nero. A me piace più nero, perché nero? Perché secondo me si può utilizzare anche sotto una giacca, sotto un blazer. Quindi non è detto che voi comprate un top per allenarvi, voi comprate un top. Poi sta poi come lo mettete, insomma. Secondo me anche sotto un blazer adesso vanno molto di moda. Oppure come costume, perché no? Cioè anche tutti gli altri loro top possono essere usati come costume. La felpa. La felpa, loro ne hanno solo un modello, ma di diversi colori. A me piace questo qui, perché è un verde, cioè secondo me è il più bel verde, si può dire? Che esiste, cioè sta bene a tutti. Il materiale è cotone bio, al 100%. Può essere usato, ecco, anche qui è una felpa che può essere usata per portare fuori il cane, come ristorante, come al cinema, come a un picnic, come quello che vi pare a voi. Prodotto un po' più tecnico, che sono gli short, morisot, black, ma ci sono in diversi colori. Questi sono dei calzoncini per correre. Poi se voi ve li volete mettere come vi pare a voi, ben venga. Prendono anche quei leggings, diciamo, corti, stile biker, però a me non fanno molto impazzire, diciamo, come modello preferisco questo qui, che è un po' più sbasato. Sono traspiranti e molto comodi, hanno l'elastico in vita. Prendono delle canotte molto carine. A me piace questa qui, bianca, con le scrittine tutte colorate, perché la vedo un po' più allegra, un po' pestiva. Ve la potete mettere pure, che ne so, quando andate via dal mare o per un aperitivo molto easy. È traspirante e è molto comoda, elastica. Impression tank e la potete trovare in diverse colorazioni. Loro comunque sono sempre, diciamo, ora in espansione, mi viene da dire, nel senso, hanno pochi prodotti, ma veramente validi e di qualità. Altra cosa che vi voglio dire è che loro hanno un programma di ambassador. Quindi potete collaborare con questo brand tramite il Pocket Project, che è un progetto grazie al quale chiunque può diventare la loro ambasciatrice o ambasciatore. È facilissimo, vi lascio il link qui sotto. Se volete andate a dare un'occhiata, basta scaricare l'app Brand Ambassador e partecipare a queste piccole challenge. Chi parteciperà e porterà a termine queste piccole sfide, che poi sono sfide, diciamo, pensate e legate al movimento, quindi all'attività fisica. Potete ricevere in cambio denaro o percentuali, sconti, offrono anche i loro prodotti. Quindi potete diventare il loro ambassador. Piccolo requisito da avere, amare il movimento, quindi amare l'attività fisica perché fa bene per chi ha salute. E secondo requisito, essere sempre vestiti sportivi. Quindi se siete sempre vestiti in tuta, comodi, fate al caso loro. Perché loro credono che appunto al giorno d'oggi non ci sia più un'occasione in cui la tuta o gli abbigliamenti sportivi non vadano più bene. Effettivamente è così. La prossima cosa, vi voglio parlare del loro blog. Loro hanno questa sezione blog sul sito che è molto interessante secondo me perché pubblicano spesso nuovi articoli, sempre inerenti al mondo del fitness, della salute, dell'integrazione. È molto bello. Danno delle dritte ma anche parlano di moda, quindi abbigliamento, come vestire i loro prodotti in modo particolare, originale. Vi invito a fare un giro sul loro store o sui loro social e fatemi sapere se conoscevate il brand oppure no. Spero di esservi stata utile con questa piccola panoramica generale su quello che è Pockets Sport.